Gareggiando per ricchezza coi tesori dei re, i quali l'avevano arricchito di molti anelli e gemme votive al santo, per gli sfuggiti pericoli, e pei trionfi ottenuti o impetrati da lui. Le statue e i simulacri argentei di alcuni tra essi ricordavano, a testimonianza delle ricevute grazie, i vargeri e i mali che affliggono l'umanità. Il cardinale arcivescovo Monti celebrò il divino sacrificio e recitò il panegirico del santo, come aveva fatto il cardinale Federico in un precedente anniversario. Gloria non comune di quell'età, che sommi arcivescovi fossero del pari sommi oratori. Graditissimo ai grandi e dalla moltitudine non solo per l'eloquenza, ma per l'elogio della generosità del re Filippo, riuscì il passo in cui il Monti, alzando gli occhi al cielo, apostrofò il santo così, celeste Carlo. De coro e corona dei pontefici, un giorno nostro cittadino e pastore e padre di questa patria. Oggi ad onorare le tue reliquie e il nome tuo sunisce il divino favore alla magnificenza del re di Spagna, il quale dona un'arca, che nessuna privata ricchezza avrebbe potuto offrire. Apparisce come costruita in cielo, che, per assecondare la divozione del re, fè scoprire meravigliosi cristalli, per formare un'arca degna del principe e in uno della purità del sacro corpo, che vince il fulgore di quei cristalli. Dopo l'ufficiatura, incominciò la processione, quattro vescovi sostenevano in apparenza l'arca, che era portata da uomini nascosti sotto il drappo che la cingeva. L'arcivescovo, quantunque malfermo per recente malattia, sostenevala egli pure. I senatori portarono il baldacchino per un tratto di strada, scambiati da altri a seconda del grado e dei privilegi delle varie magistrature, il governatore la seguitava al suo posto con una torcia accesa. Sarebbe superfluo descrivere i consueti apparati della città, le contrade coperte di tele, le muraglie ad orne di arazi, i quadri ed altri oggetti preziosi, tratti dalle case dei ricchi, giacché simili pompe si ammirarono altre volte in Milano. L'ornamento tutto speciale di quel giorno fu la moltitudine, la quale a stento capiva nella città, e lo strepito che vi faceva. Rimasero quasi deserti i villaggi e le città vicine, e se il nemico avveduto sapeva profittare dell'occasione, avrebbe potuto facilmente impadronirsene. Molti giunsero dalle terre venete, dalla marca d'Ancona, dal genovesato, dalla Svizzera, dai grigionni, avendo calcolato il tempo del viaggio per arrivare il giorno della festa. Né solo individui, ma intere famiglie, le donne coi loro bambini, i figliuoli seguendo i genitori, ovvero venuti nascostamente dalle vicinanze a Milano. Molti vecchi altresì, nobili e plebe, ciechi, storpgei e afflitti da malattie si trascinarono, si grande era il desiderio d'assistere alla solenne traslazione del corpo di S. Carlo ed invocarne il patrocinio, ne vi mancò una turba di mendichi. Seppi che parecchi mariti, che lo stato congiugale rendeva infelici, e mogli angosciate per le libidini degli adulteri consorti, accorsero con fiduciosa semplicità di cuore, che il geniale Talamo deterso e santificato per occulta virtù di S. Carlo, e reintegrato il buon nome, la famiglia passerebbe dallo sprezzo e dalla disperazione ad un onesto e giocondo vivere, la quale fiducia o semplicità ebbero pure alcuni milanesi. Conosco certi tali che, afflitti per rovesci di fortuna o circondati da pericoli, sperando nell'aiuto del santo, ottennero, o almeno affermarono d'aver ottenuto, grazie non meno evidenti di quelle che ricevettero i guariti da corporali malattie. E siccome di queste si narrano miracolose guarigioni, così viene assicurato che le più gravi dell'animo, ed i domestici infortungerie, mitigò in quel triduo S. Carlo con la sua intercessione a podio, e molti videro prosperare i loro traffichi e rimarginarsi le ferite del cuore, secondo che avevano pregato e fatti voti. 60.000 peregrini alloggiarono negli alberghi e nelle taverne, numero che venne notificato al pubblico. Aggiungasi altri moltissimi, i quali furono ospitati dai parenti ed amici, essendo che ogni casa, grande o piccola, era zeppa di ospiti, una parte dei quali venne collocata negli abituri dei poveri, provvedendo al loro vito, per non poter fare altrimenti attesa la ristrettezza in cui trovavasi ciascuna famiglia per tanta gente che aveva in casa. I ricchi accaparrarono gli alloggi lungo tempo innanzi, perfino i collegi e i chiostri diedero a molti ricovero, e non di meno fu ancora maggiore il numero di quelli che pernottarono a ciel sereno 220. È facile l'immaginarsi lo strepito ed il tumulto che tanta folla di gente fece per le vie e specialmente in Duomo, urli, risse, sassi, coltelli, alcuni rimasero feriti ed uccisi. Rimbombava la cattedrale di un continuo fragore, eguale al rugito di torrente, che, ingrossato da notturna pioggia, travolve giù per le rocce dei monti immenso volume d'acque. Pure superavano quel fragore le grida e lo schiamazzo degli ossessi, i quali, alla presenza di esse Carlo, erano in si fatta guisa attormentati, che molti in quel giorno cessarono dal ritenerli inganni femminili, Convinti che veramente gli spiriti infernali si impossessano degli umani corpi, nelle viscere dei quali soffrono i martirgeri e cui sono dannati. Consta, con bastante certezza, che in quel giorno furono liberate alcune donne, avvinte, secondo le apparenze, con inestricabili nodi da Satano. Ne tacerò come uomini e donne, invasi da furore di voto, fer visti avventarsi contro i bastoni e le picche. Impero, che, custodendo le sbarre un drappello di soldati tedeschi con armi per tenere indietro, come Susa, la folla, scuotevano di continuo all in giro le picche ed i bastoni per incutere terrore. Un drappello di sbirri, fra misti e i soldati, non solo brandiva le armi, ma con torvo viso e minacce osava irrompere nella calca, battendo e ferendo parecchi. Ne sorse una zuffa che durò tutto il tempo in cui l'arca rimase esposta. Molti ne uscirono con la faccia pesta e insanguinata, un birro fu battuto a morte da un giovane colla mazza e stessa con cui gli aveva pestato un piede. Non si potè conservare nella processione l'ordine secondo i gradi, e le due primarie magistrature della città altercarono, disputandosi il posto più vicino all'arca. Al governatore spiacco e la contesa, ma si riappacificarono subito, e la gara fu piuttosto mossa da zelo che da umana ambizione. Credo che il santo medesimo gioisse, contemplando dal cielo quel contendere intorno alle sue reliquie, e perfino i grandi inquieti in mezzo al popolare tumulto. Questa unica dimostranza mancava del cielo, partecipe al giubilo degli uomini, ovvero del nostro piccolo globo turbato per sì gran trionfo. Compito il giro sull'imbrunire, l'arca fu riposta sopra l'altare maggiore. L'arcivescovo diede un pranzo frugale, e con le discipline usate da S. Carlo e Federico nei loro conviti dopo alcuna solennità, invitò quattro vescovi ed i fratelli Altemps, parenti di S. Carlo dal lato di madre. Anche il governatore in palazzo diede un pranzo militarmente frugale ai magnati e da parecchi amici, che il divenente ritornavano seccolui all'esercito. Egli prolungò la sua partenza d'un giorno, il sabato 6 novembre da Milano a Viossi per Pavia ad Alessandria. Fine del libro Quinto ed Ultimo Indice Dedica del Traduttore a Suoi Concittadini Pagina Quinto Introduzione Da un ragionamento inedito del traduttore sui principali storici e cronisti milanesi Settimo Dedica dell'autore agli illustrissimi signori il Vicario ed i 60 Decorioni del Consiglio Generale della Città di Milano XXXI Libro Primo Condizione di Milano Prima del Contagio La Carestia La Peste I prologo 3-2 Posizione e Stato della Città avanti La Peste 4-3 Come gli apparetai di guerra, indi la fame, cominciassero ad affliggere Milano 7-4 Dei governatori di Milano Fuentes, Velasco e Mendoza, e ancora dell'origine e delle cause di guerra 9 Vutaliido, Figaroa, con salvo di Cordova governatori di Milano Origine della Carestia 10-6 Della fame che precedette la peste 12-7 Del Pubblico Consiglio, ossia dei LX Decorioni di Milano che provvidero alla miseria generale 17-8 Del Lazzaretto e della moltitudine dei poveri in esso ricoverata 18-9 Discipline stabilite al Lazzaretto e nell'ospitale della Stella 20X Il Lazzaretto è riprovato e si sgombra 23-11 Tumulto popolare per la carestia 25-12 La peste scoppia in Milano 37-13 Furore e stoltezza della plebe circa la credenza della peste 40-14 Pericolo corso dal protofisico Lodovico Settala all'incominciare della peste 41-15 I magistrati pensano a più efficaci rimedie 44-16 Il corpo di S. Carlo viene trasportato solennemente per Milano Onde impetrare che cessi la peste 47-17 Dopo la processione s'accresce la peste 51-18 Aspetto ributtante di Milano Pemucchi dei cadaveri e l'insolenza dei monatti 53 libro secondo gli untori I prologo 59-2 D'un terribile e falso rumore divulgato in Milano e dall'estero 62-3 Del piazza, del mora, del baruello, ed altri untori 67-4 D'altri che a torto furono creduti untori O per tali imprigionati 80-2 D'un grande e insigne personaggio sul quale cadde il medesimo assurdo sospetto 88-6 Si espongono le opinioni di filosofi e medici chiarissimi circa gli unguenti pestiferi E vari casi 94-7 Repentino e pestifero tumulto 107-8 Varge i casi di peste nel lazzaretto Il padre felice presidente del medesimo 119 Come incominciò a rallentare la pestilenza E come ebbe termine 119 Appendici del traduttore al libro Secondo i difesa di Giovanni de Padia 127 Due considerazioni sul processo degli untori 139-3 La colonna infame 145 Libro terzo Il cardinale Federico Borromeo e il clero durante la peste I prologo 155 Due provvidenze e disposizioni del cardinale Ai primi rumori di peste 156 Tre suoi fatti durante la peste 159-4 Lazzaretto ecclesiastico Istituito da Federico 166 V denaro portato al cardinale da due contadini E dall'Omellini di Genova 171 6 avvisi e consigli del cardinale al suo clero 173-7 Premura del cardinale pei monasteri delle sacre vergini 177-8 Il cardinale presagisce per ispirazione divina la prossima cessazione della pestilenza E si accinge a riordinare gli studgi ecclesiastici e le arti 178-9 Opinioni e sentenze di Federico Borromeo Circa la peste 179 Libro quarto venuta e diffusione della peste in Lombardia Atti del Tribunale di Sanità I prologo 195 Due atti del Tribunale di Sanità 227 Tre nuove particolarità sulla carestia e la peste 252 appendice del traduttore al libro quarto Intorno la mortalità della peste del 1630 E la popolazione di Milano a quell'epoca 261 Libro quinto confronto della peste del 1630 con altre E specialmente con quella del 1576 Proemio del traduttore al libro quinto sugli storici della peste del 1576 269 269 I prologo 275 2 confronto della pestilenza di Milano con l'antichissima degli Ateniesi 277 3 confronto della peste di Milano con quella di Firenze 284 confronto della pestilenza del 1630 con quella del 1576 284 V lazzaretti seconda Argeria Capanne per gli appestati e per i poveri Medici Asilo per i bambini 298 6 voto a s Sebastiano Quarantena generale Spurghi 308 7 Donativi di Casal Maggiore 321 8 Nuove particolarità intorno ai presidenti della sanità nel contagio del 1630 Si accenna il gran numero degli altri magistrati 329 9 Il senato e il presidente del medesimo nel tempo del contagio 334 X credenza che la peste cessasse per grazia di S. Carlo Arca donata dal re di Spagna per deporvi il suo corpo E nuova processione per la città 337 frammento della decade V del Ripamonti In cui è descritta l'arca di S. Carlo donata dal re cattolico E la solenne processione fatta in Milano il 4 novembre 1638-339 fine dell'indice Note Uno ciò feci per esteso nel principio di questo ragionamento Esaminando le tradizioni popolari Per farmi strada a parlare dei nostri storici e cronisti Io credo superfluo di cui riportare questo brano perché si riferisce alla storia generale di Milano Non alla peste del 1630 Due la presente lacuna e le altre Che trovansi in questa introduzione Provengono dalla necessità di omettere i passi del mio ragionamento sugli storici e cronisti milanesi Che sono estranei a questo libro 3 nel libro 1 delle ordinazioni MS Pagina 29 e 74 4 l'attuale archivista signor Civelli l'ordinò con sapere e diligenza l'odevolissima 5 fu battezzato a Nava il 18 agosto di quell'anno Come da registri parrocchiali Vedi Cantù, Tom 2, pagina 72 6 oriundus fu it ex obscuro pago brianta e i cala saspero et confragoso, ipsum da in illustraturus Così il legnano nella vita citata 7 piccolo paese non lontano da Tegnone 8 Ripamonti fu ordinato sacerdote nel 1606 9 da uno dei costituti del Ripamonti Processo MS 10 Costituto 7 agosto 1618 dell'abate di San Pietro in Chiaravalle Processo MS 11 processo 12 l'abate di Chiaravalle nel Costituto sopra citato 13 processo 14 intorno al Talido Vedasi il capitolo quinto, Libi 15 Lo desumo da una delle lettere di Federico, che, scrivendo a Monsignor Bessozzo a Roma, perché cercasse un altro vicario da sostituire o l'arcello, che si era licenziato, dice, in verità è poca perdita 16 lettere autografe del Cardinale Federico, esistenti manoscritte nell'archivio Borromeo, parte unite al processo del Ripamonti, e parte in un voluminoso carteggio tra Federico e diversi 17 negli atti del processo 18 processo 19 vedasi decade uno della storia ecclesiastica del Ripamonti, pagina 515, e l'epistola Trens X, libro quarto, e la quattro del libro quinto di S Gregorio Magno, pagina 720 e 730, e i dais Maurina, parigi 1705 20 processo 21 libro delle ordinazioni MS nell'Ambrosiana, pagina 74 22 non trovo in qual anno, ma certamente prima del 1625 23 in eius aula cum ego viverem Ripamonti, introduzione alla decade terza 24 Il consiglio donò a ciascuno dei sessanta decorioni un esemplare di quest'opera Io ne posseddo uno, sul frontispizio del quale è scritto, pi traspolas confalonerius icicollegiatus vicarius provisionis de anno 1646 libro munca civitate dono abuiti 25 cum pubblico decreto medico rumperitissimi frustra ad hi bts ente, et ci, legnano, vita citata 26 ad i 14 agosto morse il m.tu illimagna Rever Signor Ripamonti, canonico di Santa Maria della Scala in Milano, il quale essendo infermo di infermità di dropisia, fu consigliato a venirse ne fuori per mutar aria Al che fece elezione della mia abitazione, dove passò come sopra dalla presente all'altra vita, che nostro Signore abbi seco in cielo, e fu sepolto in questa chiesa nella sepoltura dei sacerdoti il giorno dell'assunta di Nostra Signora Dai registri parrocchiali di Rovagnate Vedi i Cantù, Vicende della Brianza, 1837, Vol 2, pagina 83 27 magno cum urbi satque litteraturum muerore Legnano, Ivi 28 ghilini Gerolamo Teatro d'uomini illustri, P137 Venezia 1647 29 non trovo l'anno della nascita, ma quando fu ammesso nel 1603 nel collegio medico doveva avere almeno vent'anni 30 GM Visconti fu eletto dei 60 Decurioni nel 1606, nel 1627 ebbe il titolo di Marchese, e morì verso il 1638 Girolamo Legnano, entrato nei 60 Decurioni l'anno 1634, morì il 3 novembre 1650 a Madrid dove dimorava come oratore di Milano presso il Re Cattolico Cusani 31 il primo capo di ciascun libro non ha l'argomento, essendo una specie di prologo al libro medesimo Il trad 32 il ripamonti con queste gonfie e oscure frasi intende parlare di Enrico IV, il quale aveva in animo di recuperare il Ducato di Milano, quando venne ucciso dall'assassino Rava Illac Il nostro buon storico era o troppo affascinato o troppo cortigiano, per trattare sì male il grande Enrico 33 il frumento salì fino a lì recento il Moggia, la Segale 70, e 60 il Miglio Tadino, pagina 9 Somaglia, pagina 478 34 secondo la falsa opinione allora invoga intorno l'origine della società 35 pare un controsenso od un visticio, ma in fondo l'autore dice il vero, perché in simili calamità, l'uomo, spinto dalla fame, crede sempre di trovare altrove i soccorsi che gli mancano in paese 35 i contadini avevano, ed hanno ancora, idee esagerate della giatezza cittadinesca, all'opposto, il popolo che vive nelle città, sentendo inconfuso che le granaglie, il vino, le carni, gli oli, e che vengono dalle campagne, crede inesoribile la loro abbondanza ne sa persuadersi, in tempo di carestia, che si debba i vi morir di farne quindi lo spostamento di popolazione cui accenna l'autore nel suo gonfio stile, è naturale 36 sulle prime si distribui una minestra di riso ai poveri, ad imitazione di quanto erasi fatto nella peste del 1576 Allora il governatore Deiamonte faceva recare ogni mattina una caldaia di riso ad ogni capo di strada per tutti i poveri del vicinato, e dalla porta del suo palazzo faceva distribuire un soldo per ciascun povero 37 allude al padre di Francesco Sforza, villano di Cotignola in Romagna Il lazzaretto, disegno del celebre architetto Bramante d'Urbino, fu incominciato per ordine di Lodovico il Moro nel 1489, suo fratello il cardinale Ascanio concorse in gran parte alla spesa Fu ridotto a termine soltanto nel 1507 sotto il re di Francia Luigi XII, allora padrone del milanese 38 questa è una contraddizione a quanto l'autore disse dell'aere salubre di Milano nel capitolo secondo Purtroppo vu erano, e vi sono intorno a Milano praterie, che rendono greve l'aria 39 Tadino dice 288, benché nella distribuzione ne calcoli 213 solamente, soggiungendo, che a Ponente erano inservibili perché non finite 40 in città furono 3534, e tanti concorsi dal contado e dalle vicine città, che in breve arrivarono a 9715, pasciuti di pane con entroriso Si scoprì che i fornai lo adulteravano con materie nocive per guadagnare, l'acqua bevile corrotta, la paglia delle stanze fracida e non cambiata mai, ed il caldo eccessivo di quell'estate, 1629, in cui per tre mesi non piove, svilupparono le febbri contagiose nel lazzaretto Era i vissi insopportabile il puzzo, che il senatore Arconato, presidente della sanità, cadde in deliquio quasi mortale, e si dovettero sospendere le visite Il Somaglia fa scendere il numero dei poveri ricoverati nel lazzaretto e dalla stella a 14,000 41 La colpa era dei decurioni, i quali non diedero retta ai conservatori della sanità, Alessandro Tadino ed il Settala, i quali protestarono con atto pubblico contro quell'imprudente misura Predicendo che la gran moltitudine dei poveri quale causava un necessario reciproco commercio e tali toffetente putrido Fra loro principalmente atteso la mala dispositione dei corpi avrebbe acceso un contagioso morbo Il numero dei morti dall'1 grado gennaio a tutto settembre 1629 fu di 8.570 nella sola Milano 42 Intorno a questo tumulto, oltre il Tadino, ec, ebbe sott'occhio un documento autentico La relazione dell'accaduto in lingua spagnola, spedita per ordine del Consiglio al governatore Gonzalvo Sottocasale, breve Y su Maria Raleyshan del successo in Milan e il Savado Fiesta de S. Martin Y nel domingo a 11 Y 12 de novembre 1628 Concorda pienamente col racconto del Ripamonti e ne prova la verità Mi fu gentilmente comunicata con altri MS Di molta importanza, di cui mi servirò nel corso di questo libro, a schiarimento, dall'archivista signor Civelli Il quale possiede una preziosa raccolta di atti pubblici e di manoscritti riguardanti le cose patrie 43 Il prestino delle gruce, detto volgarmente di Skens C, posto anche in oggi sulla corsia che dal duomo mette a porta orientale A mano sinistra sul principio della medesima 44 Io che sono stato presente non ho visto arme che eccedesse il sasso et qualche spada Per il più tutti, erano battilana et simile scroccheria Lettera 18 novembre di Agostino Foppa al conte Carlo Borromeo 3 MS Civelli 45 Alcuni per non aver sacchi persa ogni vergogna et molestia si ridussero a spogliarsi dell'i vestiti et questi riempire Et alcune donne ad alzare le vesti quantunque una sola ne avessero et in quella riporla Taddino, pagina 7 46 Il Taddino, narrando questa sommosa, parla della resistenza del fornaio e dei suoi garzoni, che vi è più irritò il popolo Gli padroni et ministri del quale vedendo non esservi a loro rimedio, ricorsero anch'essi alla violenza, et saliti nell'i luoghi superiori col gettare anch'essi contraddetta plebe sassi, et pietre il ritorno quella in tal maniera Principalmente per essere morti due figliuoli con le percosse de sassi et pietre, che fatta maggiore violenza, entrorno rompendo le porte, et 47 Il vicario di provvisione di quest'anno 1628, del quale Ripamonti e Manzoni tacciono il nome, era Lodovico Melzi, eletto dei LX Decurioni fino dal 1618, e che nel 1630 venne creato Conte, forse per guiderdone del pericolo corso nella sommossa Gli succedette Alfonso Visconte, uomo integro e caritatevole Vedi il suo maglia 48 La casa del povero vicario è stata maltrattata, avendoli costoro non solo fracassato le invetriate sotto la porta e scrostata tutta la muraglia, ma mostrato risoluzione di ammazzare e bruciare E se un tantino tardava il soccorso del castello, era fatto il becco o locia Lettera del Foppa, citata più sopra 49 furono necessitati gli spagnoli con carri attraversare la strada, et con la moschetteria custodirla Taddino, pagina 7 50 fu necessario che il primicerio, avvisato in duomo, mentre si stava dicendo la lezione dopo i vesperi, facesse sospendere al lettore di proseguire la lettura, e che con parte dei chierici, e con due crocefissi molto grandi, e con la gente che colà si trovava, Andassero in processione al prestino et ci traduzione letterale della relation et ci in lingua spagnola sopra citata 51 Dalli Monsignori Mazzenta Se tala et bosso de principali di quel capitolo metropolitano veniva assicurata la plebe che avriano avuto il pane in grande abbondanza e da buon mercato il che giova assai essendo personaggi di gran credito et veneratione per le loro qualità presso la detta plebe et tutta la città Taddino, pagina 8 52 Codesta tarifa, secondo il Taddino, costò alla città più di 100,000 scudi di perdita 53 Il Decurione Legnani 54 Degli autori della sommossa 4 ne furono appiccati la vigilia di Natale, 2 innanzi il prestino, e 2 a capo della strada ove abitava il vicario di provvisione 55 Il Taddino varia nella data e nel nome dell'individuo Entrò nella città Pietro Antonio lo nato soldato ali i 22 ottobre del soddetto anno 1629, abitante in borgo di Porta Orientale, parocchia di S. Babila nella casa detta dell'Orefice, conducendo seco molti vestimenti comperati, ovvero rubati ali i soldati alemani, et subito giunto si infermò, et fu condotto all'ospitale Il quale essendo soprapreso da un tumore nel cubito del braccio sinistro con un bubone sotto l'ascella sinistra, morbo maligno et pestilente, accompagnato da febbre parimente Pestilente, morse nel quarto giorno Tutte le sue ravetletto insieme furono subito abbruggiati, che fu causa, mediante l'aggiutto divino di preseruarle per olora questo ospitale venerando, ma non durò lungo tempo questo sospetto perché manifestamente si palesò con l'infermità contagiosa, scoperta nella persona del consegnero di detto ospitale et barbiero con il rever Peter Zago, per la lunga esperienza del suddetto, il quale fece grandissima carità nella peste di Palermo dell'anno 1624, disse il lonato essere morto di peste et loro medesimi essersi ammalati del medemomale, sebbene per gli preseruativi, et loro robustezza mediante l'aggiutto divino si fossero mantenuti, guariti Taddino, pagina 51 56 Carlo Calona suonatore di Leuto poco prima anch'esso venuto da Monza, per vedere il passaggio degli alemani et forsi che aveva comprate alcune rab da questa gente, a lì 16 novembre infermò, morse nella quarta Taddino, pagina 51 57 57 Ciò accadeva nella primavera del 1630, quando il male cominciava a serpeggiare nel borgo di Porta Orientale, e si sarebbe forse potuto circoscrivere con buone provvidenze 58 A questa incredulità s'accompagnavano altri fisici, li quali per degni rispetti non si nominano Et in questo sinistro pensiero cascavano ancora li chirurgi della città Carcano, Monte, Calvo et il Chiodo, li quali non sapendosi governare mercè dell'ingordo guadagno, con la loro morte confessorno la verità, atteso che tutti morsero di peste, et ci, Taddino, pagina 73 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 62 63 63 64 63 63 64 64 64 63 64 64 64 64 64 figlia di Gianfrancesco, giure e consulto reputatissimo all'Università di Pavia. Ivi fece i primi studi e, continuandoli a Torino e da Milano nelle scuole canobiane. Laureato che fu, entrò nel collegio medico nel 1573, e quasi subito venne nominato lettore all'Università di Pavia, ma scoppiata la peste nel 1576, lasciò la cattedra per servire più utilmente il suo paese. In quel tempo, scrive il Settala nel Trattato della Peste, il grande arcivescovo, che confortava con divina carità i moribondi milanesi, destando ammirazione universale, mi volle, con indicibile benignità, compagno all'esimia opera. Egli codivò con tanto sapere e premura il Borromeo, che acquistò fama di dotto e caritatevole medico, non solo in patria, ma in tutta Italia e fuori. I principi facevano a gara per avere il Settala. Nel 1608 il Duca di Baviera gli fece offrire la cattedra primaria di filosofia nell'Università d'Ingolstadit. Il Duca di Toscana lo voleva professore a Pisa. Il Senato di Bologna gli esibì 1200 zecchini di stipendio qualora si recasse a quella famosa università. Il Senato di Venezia instava per fargli accettare una cattedra di medicina a Padova. Ma egli rifiutò costantemente tali lusinghiere proferte, non volendo abbandonare la sua Milano. E insistendo il Senato di Venezia perché indicasse almeno un uomo degno della cattedra recusata, egli suggeriva il Dottissimo Santorio, il quale giustificò la sua scelta. Nel 1619 il re di Spagna nominò lo protofisico di tutto lo Stato di Milano, ricompensa meritata con la sua dottrina e le sue virtù. Allorce scoppiò la peste del 1630, il Settala, benché toccasse ormai l'ottantesimo anno, si adoperò con gran zelo come capo del Magistrato di Sanità per attivare le più energiche misure onde frenare il contagio. Ma ebbe il dolore di vedersi non creduto anzi insultato dal popolo, malgrado la venerazione procacciata gli dal sapere e dai beneficgei resi a concittadini. Non savvili perciò, e durante quel contagio, giovò con la sua esperienza, poi c'è la vecchiaia non gli consentiva di giovare con l'operosità. Uscito il leso, il Settala chiuse, il 12 settembre 1633, la sua lunga e onorata carriera, lasciando nome di valente medico ed ottimo cittadino. Scrisse molte opere, nelle quali traspare ingegno ed erudizione, ma viziate dagli errori in allora comuni nelle scienze mediche. Il progresso di queste, e un po' il riprovevole dispregio di quanto è antico, le fece cadere oggi di in totale dimenticanza. Se ne può leggere il catalogo nell'Argelati. Bibliot Script Mediol Lodovico Settala riposa nel tumulo dei suoi maggiori in San Nazaro, dove, quarant'anni dopo la sua morte, i figli gli posero una lapide, la quale ora trovasi in sacristia, ivi con altre locata nell'anno 1830 quando ristaurossi quella basilica. Vi si legge una gonfia iscrizione, piena di bistici, secondo il pessimo gusto del Seicento, la quale, tradotta in italiano, suona così, D.O.M. A Lodovico Settala per splendori di nobiltà e dottrina, chiarissimo archiatro di Filippo, re di Spagna, cittadino e salvatore di Milano che vinse la morte quante volte volle, e la vinse quante volte appresto, rimedge pugnante coi morbi e con la morte, con le sue lucubrazioni anche dopo la domata peste, padre amantissimo e dottissimo uno figli Carlo Vescovo di Cortona e Antonio Insignito più volte donori municipali offrono tributo di lagrime Manfredo poi canonico di questa basilica nel domicilio della sua immortalità un monumento immortale pose ai primi di agosto l'anno intercalare M.D.K.I.T. 3D61, il primo nel 1629, il secondo nel 1630. 62 Tadino espone minutamente le prescrizioni per i malati che rimanevano in casa. Il commissario doveva suggellare tutte le porte, meno una, collocandovi guardie, profumare stanze e robe, visitare in persona le case in sequestro, almeno una volta il giorno, e farne esatta relazione alla sanità. I provvedimenti erano buoni, ma tra per la cupidigia degli ufficiali subalterni, tra per l'infierire della peste, vennero maleseguiti. Veditadino, pagina 76. 63 fino dal febbrio 1630 i medici conservatori avevano suggerito di preparare fopponi longhi profondi, e non troppo larghi, tanto che si potesse stare quattro cadaveri per traverso. E questi fuori di ciascuna porta, ma tale prudente misura non venne adottata che nel maggio, quando crebbe il numero dei morti. Il Tribunale di Sanità, conoscendo l'importanza somma ad una pronta e diligente tumulazione, invigilava perché fossero eseguiti i suoi ordini, pure, in onta alle pene severissime non riusciva a farli ubbidire. Il caso seguente, narrato dal tadino, prova ad evidenza la verità dell'esposto. Morì nell'aprile umbrasca d'anni 15, figlio d'un macellaio in Porta Orientale, et fu sepolto sopra il cimiterio di esse Babila et perché sera sparsa voce, che il caso fosse dubbioso, uno de' sotterratori per interesse de' vestiti dopo due giorni di sepoltura, ebi ardire diluare la cassa dalla fossa profonda, et' aperta spogliarlo, ed accortosi l'altro compagno, dicesi, che lo riprendesse dell'errore commesso contra gli ordini del tribunale per le pene gravi intimate, ma non palesandolo anzi. Per quello sintese e scusandolo fu messo in prigione, et' giustificata la verità del fatto, fu appiccato d'ordine del tribunale per mezzo al suddetto cimiterio, ad esempio degli altri, et' bandito il principale. Taddino, pagina 92. 64. Il vicario di provvisione nel 1630 era Francesco Landriani. 65. Questa processione ebbe luogo l'11 giugno, durò dalle ore 7 alle 19 italiane. Pio della Croce 66. La vera ed evidente causa fu il contatto di tante migliaia di persone sempre fatale nei contagi, e specialmente con la caldura allora dominante, ma l'ignoranza dei tempi non l'ammetteva. Il tribunale di sanità compresse il pericolo, ma non aveva forza di opporsi al voto di tutta una popolazione. Adottò quindi, come accade in simili casi, un mezzo termine, cioè di escludere da Milano in quel giorno i sospetti, inutile misura da che la peste era già penetrata in città. Il tribunale di sanità fece promulgare rigorose grida con pena della confisca dei beni e della vita stessa che nì una persona delle terre infette o in cui fosse avvenuto qualche caso pestilente, ardisse, sotto qualsiasi pretesto, intervenire alla detta processione. Furono chiuse le porte della città e inchiudate le porte delle case infette, pure si sviluppò il contagio. Così il Somaglia, il quale lo attribuisce agli untori. 67. Esagerazione retorica, poi c'è in detto giorno le case sequestrate erano già 500, ai primi di luglio crebbero a 2000. Prima della processione la mortalità giornaliera arrivò a 130, dopo caddero talmente li ammorbati, dice il Somaglia, che in brevissimo tempo si condussero più di 12.000 persone al lazzaretto, sendossi tanto oltre con progressi così orrendi avanzata la peste, che obbligò quasi tutte le famiglie dei ricchi, nobili, mercanti o chi poteva aver ricetto nelle ville, a colà fuggirsene. Somaglia, pagina 484. 68. Somaglia dice 1700 al giorno durante il luglio e l'agosto. 69. Cioè da solo, o da solitario. Il bugato invece lo deriva dal latino monere, avvisare, perché col tintinio delle campanelle attaccate ai piedi avvisavano la gente di scostarsi. Ambe due le etimologie sono stiracchiate, ma non si saprebbe indicare donde venga precisamente questo vocabolo. I monatti erano distribuiti nelle seguenti stazioni, al guasto in Porta Comasina, all'osteria di Sant'Antonio in Porta Vercellina andando alle Grazie, all'osteria del Pavoncino in Porta Romana, in tutto il borghetto di Porta Orientale vicino al Dazio. Gli carri, che di continuo dallo spuntare al tramontare del sole s'adoperavano per la condotta dei morti o delle persone o rabinfette, erano circa 50. Somaglia, alleggiamento. Ad ogni carro servivano due monatti ed un cavallo. Lampugnani, pagina 35. 70 indegna cosa parimenti fu l'aversi alcuni mal consigliati giovani, poste le campanelle a piedi, per essere anch'essi creduti monatti. Con la quale invenzione usurpavansi licenza di andar tra sani per le case altrui, fingendo cercare se vi fossero infermi o morti. Dal che ne avvenivano robarie e scandali notabilissimi. Somaglia, alleggiamento, pagina 500. 71 non meno viva è la pittura che il della croce fa della condizione di Milano. Spettacolo orribile a vedere era allora la già tanto gloriosa, ma in detti tempi misera città di Milano. Stavano desolate le case, le famiglie estinte, chiuse le botteghe, cessati i traffichi, serrati i tribunali, abbandonate le chiese, le contrade solitarie. Ed ormai più non si vedevano per le strade che quei ministri funebri, che dalle case ai lazzaretti conducevano gli infelici appestati. Stridevano mai sempre per le strade i carrettoni dei morti, tanto più orrendi alla vista quanto che i cadaveri confusamente caricativi sopra, davano di loro stessi vista più spaventosa. Uscivano dal lazzaretto cantandoli con dottieri monati, già fatti duri in cuore in quell'orribile ufficio, con più macci e galle sulle berrette, e quasi che a parte fossero del trofeo di morte, entravano audaci tanto nelle case infette, che più pareva volessero darle nemico sacco che amichevole aiuto. Pigliavano quei monati per il capo, per le gambe, come loro meglio comodo veniva, gli appestati caduti sul dorso, e dalle spalle gli venivano poi a scaricare sul carro come sacco di grano, nulla curandosi che indecentemente giù dai lati pendessero e gambe e braccia e teste. E malamente copertegli le nudità con uno straccio di tela, se ne andavano a scaricarli al foppone, celebrandogli intanto il funerale le flebili grida dei familiari che si vedevano tanto malamente trattare gli amati cadaveri dei suoi più cari e congiunti. Non udendosi altro suono di campane che il doloroso, che andavano facendo le campanelle che gli stessi monati e cavalli de carrettoni portavano legate al collo e dalle gambe per avviso di quelli che loro venivano incontrati. Non men doloroso era anche la vista dei poveri infetti, cui non era permesso spirare l'anima sotto il paterno tetto fra i loro cari. Altri venivano sopra carri e talvolta forzatamente legati, impiendo l'aria di lamentevoli strida, altri sopra sedie portati, altri a piedi a bastoncelli appoggiati, andavano gemendo ad incontrare, prima che medico e medicina, la morte e la fossa. Pio della Croce, pagina 58 e seguente. 72 La quale assurda opinione fu comune a tutti gli scrittori del tempo. Io sono di parere che li capi malfattori ed autori di tanta inumanità avessero anche patto col demonio, e che perciò, volendo egli no palesare il fatto, venissero da quello soffocati, perché io ne ho visto alcuni, li quali imputati di tal scelleraggine, temendo il dovuto gastigo, arrabbiati e se gli crepò il ventre in due parti. Somaglia. Il Croce. Sino all'ultimo pertinacemente affermarono d'essere innocenti, sopportando del rimanente quella morte con assai buona disposizione, dal che si argomenta la diabolica fattura di questo fatto. Pag 49. Ed altrove aggiunge, che la diabolica fattura era tale che chi preso ne veniva con darle il primo consenso, sentiva tal gusto e diletto nell'andare untando che umano piacere, sia qualsivoglia, non è possibile se gli adduagli. Pag 52. Il Tadino. In questo tempo non fu medico alcuno, né persona intelligente che ho esse sentimento diverso di queste untioni pestilenti che non fossero con arte diabolica fabricate. Pag 117. E negli altri passi dove favella degli untori. La quale credenza delle unzioni, diffusa, come è detto sopra, nell'aprile, andò crescendo nei mesi successivi. Si poneva in opera ogni mezzo per riscoprirne i supposti autori, e le gride succedevansi sempre più minaccevoli. Cito i passi più importanti delle gride medesime. Avendo alcuni temerargeri e scellerati ha avuto ardire di andare ungendo molte porte delle case, diversi catenacci di esse e gran parte dei muri di quasi tutte le case di questa città, con unzioni parte bianche e parte gialle, il che ha causato negli animi di questo popolo di Milano grandissimo terrore e spavento, dubitandosi che tali untuosità siano state fatte per aumentare la peste che va serpendo in tante parti di questo Stato, dal che potendone seguire molti mali effetti ed inconvenienti pregiudiciali alla pubblica salute, ai quali dovendo gli signori Presidenti e Conservatori della Sanità dello Stato di Milano per debito del loro carico provvedere, hanno risoluto per beneficio pubblico e per quiete e consolazione degli abitanti di questa città, oltre tante diligenze sin cui d'ordine loro usate per mettere in chiaro i delinquenti, far pubblicare la presente grida, con la quale promettono a ciascuna persona di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia, che nel termine di giorni trenta prossimi a venire dopo la pubblicazione della presente metterà in chiaro la persona o le persone che hanno commesso, favorito, aiutato o dato il mandato, o recettato, o avuto parte o scienza ancorché minima in cotal delitto, scudi 200 de danari delle condanne di questo tribunale, e se il notificante sarà uno de complici, purché non sia il principale, se gli promette l'impunità, e parimente guadagnerà il suddetto premio. E da questo effetto si deputano per giudici il signor capitano di giustizia, il signor podestà di questa città ed il signor auditore di questo tribunale a quali o ad uno di essi avranno da ricorrere i propalatori di tal delitto, quali volendo saranno ancotenuti segreti. Dato in Milano lì 19 maggio 1630. M. Antonio Monti, presidente Giacomo Antonio Tagliabue, cancelliere Essendo pervenuto alle orecchie del il.moedec.mo marchese spinola et c, il disordine et temerità seguita in questa città di Milano et in quella di Cremona et lodi dove sono stati unti quasi tutti gli muri delle case, molte porte, e cadenazzi di esse con untioni di colore parte bianco, e parte giallo et il travaglio d'animo e spavento che questa malazione ha cagionato al popolo per il timore conseguito che sia stata fatta per aumentare la peste, conferma la grida di sanità 19 maggio, e promette altri 200 scudi, e liberazione di due banditi per casi gravi a chi somministra indizgeri ed impunità anche al complice purché non sia il principale. 13 giugno. In molte parti dello Stato et in particolare delle città di Milano, Pavia e Cremona, et altri molti luoghi hanno con unti velenosi untate le porte, et ci con animo diabolico di dilatare la peste. Promette l'impunità dei complici del detto delitto mentre non siano dei principali. Et il premio di scudi 1000 et la liberazione di tre banditi. 14 luglio. La continuazione del velenoso male causato dalle ontuosità pestilenziali che senza alcun timore delle minacciate pene si vanno tuttavia spargendo in questa città con tanta mortalità dei cittadini, inducono esse e a bandire nel termine di due giorni tutti i forastieri di qualsivoglia nazione, stato, grado, qualità, condizione, pena la vita et confiscazione di beni. Mille scudi, e cinque anni di galera agli osti e tavernieri che non li denunziassero. 30 luglio. 73. La gente camminava con pistole in mano, i nobili senza mantello, e con sportule per provvigioni. Pio della Croce. 74. Il processo degli untori, di cui si è tanto parlato in quest'ultimi anni, esiste per intero nell'archivio criminale, o, per dir meglio, esisteva, già che andò in gran parte smarrito anni sono in un riordinamento di vecchie carte. La parte di esso che riguarda il Mora e gli altri condannati, si stampò nel 1630, perché servisse a continuare il processo medesimo con l'accusato Padia. Pietro Verri fu il primo a spargere luce su questa miseranda storia degli untori, scrivendo nel 1777 le sue osservazioni sulla tortura, e singolarmente sugli effetti che produsse all'occasione delle unzioni malefiche, alle quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630. Fino dal 1761, Verri aveva abbozzate alcune idee sulla tortura, e nel Mal di Milza, celebre al Manacco che, unitamente al Zoroastro, pubblicò per Filosofica Celia in quell'anno, così esprime Vasi, facendo, sotto forma di indovinello, parlare la tortura. Io sono una regina, ed abito fra gli sgherri, purgo chi è macchiato, e macchio chi non è macchiato, son creduta necessaria per conoscere la verità, e non si crede a quello che si dice per opera mia. I robusti trovano in me salute, e i deboli trovano in me la rovina. Le nazioni colte non si sono servite di me, il mio imperio è nato nei tempi delle tenebre, il mio dominio non è fondato sulle leggi, ma sulle opinioni di alcuni privati. Undici anni dopo, cioè nel 1777, egli riassunse le proprie idee su quell'orribile abuso, e le ordinò nelle sue osservazioni. Non vi sia discaro, o lettori, udire il giudizio che ne dà il benemerito Pietro Custodi nelle notizie del verri premesse al volume quindicesimo, Economisti italiani, parte moderna. Per rendere più efficace la forza dei ragionamenti, scelse un famoso esempio di un delitto impossibile confessato per l'eccesso dei tormenti, cioè il fatto delle unzioni benefiche cui si attribuì la pestilenza che desolò Milano nel 1630. L'ordine, la chiarezza, la forza dei raziocingeri e l'insinuante sì fluidità del suo stile trovansi nelle osservazioni sulla tortura in grado eminente. Non temo di incontrar taccia di esagerato, se dico che quest'opera mostra più che ogni altra qual grand'uomo era il verri. Egli ebbe il talento di rendere una lettura interessante dei pezzi di processo scritti col barbaro frasario dei tribunali, ancor più barbaro a quei tempi, di insinuare l'austerità dei ragionamenti per la via sempre facile e l'usinghiera della sensibilità, e di trasfondere nei suoi lettori, con la commozione della sua anima, la sua stessa persuasione. Ma, per mala sorte, suo padre, il conte Gabriele, era presidente di quel collegio di supremi giudici, che 147 anni prima aveva dato un sì atroce esempio di ignoranza e di crudeltà nel legale assassino di tanti innocenti. Si credette che l'estimazione del Senato potesse restar macchiata per la propalazione dell'antica infamia. Questo riflesso prevalse, verri, per rispetto del padre, rinunciò all'idea di dare alle stampe le sue osservazioni, così il pubblico rimase defraudato di un'opera che certamente su tutte le altre di eguale argomento avrebbe riportato la palma. Queste osservazioni, unitamente alle memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano, scritte nel 1768, furono pubblicate dal custodi l'anno 1804, e formano il volume diciassettesimo, parte moderna degli scrittori classici italiani di economia politica. Il manoscritto originale, di che egli, di questa importantissima opera, già disposto dall'autore per la stampa, mi venne cortesemente comunicato dall'astimabile di lui Vedova. Io ho creduto di aggiungervi, quasi in forma di una lunga nota, le osservazioni sulla tortura, per soddisfare alla curiosità di molti che bramavano di vederle pubblicate, e perché altronde l'esempio del fatto atroce che ne forma il principal soggetto, può servire di più ampia dimostrazione della barbarie dei tempi. Pagina 53, volume quindicesimo, parte moderna Cesare Cantù, nei suoi ragionamenti intorno alla storia lombarda del secolo diciassettesimo, pubblicati in via di commento ai promessi sposi nei volumi 11, 12 dell'indicatore 1832, tolse dal verri, e riprodusse tutto ciò che avvi di più importante nei due opuscoli citati, circa la condizione politico-economica di Milano a quell'epoca, e circa il processo degli untori. Nel 1839 si sparse la voce in Milano che pubblica vasi un lavoro sulla colonna infame, e molte charlie se ne fecero, nell'idea che fosse lo scritto tanto desiderato di Manzoni, o se d'altri lavoro originale. Ma al comparire del volume fu delusa l'aspettativa del pubblico, non essendo che una semplice ristampa della parte offensiva del processo data in luce, come accennai più sopra, nel 1630, aggiunto vi, per informativa e per conclusione del fatto, due brani dei ragionamenti di Cesare Cantù. Il libro non poteva gradire alla comune dei lettori, perché nulla più noioso d'un processo in istile barbaro e proliso, quindi giace dimenticato, però è un documento storico non senza importanza per i milanesi. Sceglierò alcune note ad illustrazione del Ripamonti, tanto dal Verri che dal processo, citando di quest'ultimo l'edizione del 1839. 75 figlio di Domenico e di Paola, levatrice, abito in Porta Ticinese nella parrocchia di S. Pietro in Caminadella cioè al Torchio dell'Oglio, a lì 26 di maggio cominciai a fare il commissario sopra la sanità per far sequestrare S.U. gli infetti, farli condur via, ed anche far condur via gli morti di peste con gli carri, comandando a lì i monati, ed questo ufficio lo faccio per Porta Ticinese, ma prima di fare il commissario attendevo a scartezzar filisello. Processo, pagina 37. 76 vedi nel processo i lunghi costituti dei testimongeri e, i quali concordemente deposero che circa le due ore della mattina avevano veduto passare dalla vidra dei cittadini il piazza, imbacuccato, tenendosi rasente i muri, e con in mano una carta a fregare qua e là le pareti delle case e le porte, che si scoprirono imbrattate d'un certo onto che pareva grasso tirante al giallo, una cosa gialla che pareva che in due luoghi vi fosse stata buttata su con un detto. Processo, pagina 30 e seguente. 77 di questa crudelissima esacerbazione non trovasi cenno nel processo, forse è amplificazione retorica del Ripamonti. 78 l'infelice protestò nei primi esami la sua innocenza, ma lo spavento di venir sottoposto ogni giorno agli spasimi della tortura, e l'impunità promessa qualora palesasse il delitto e di complici, lo spinsero, per amore della vita, alle più strane ed assurde confessioni. Il piazza dunque chiese ed ebbe l'impunità, a condizione però che esponesse sinceramente il fatto. Ecco perciò che al terzo esame egli comparve, e accusandosi senza aver una tortura o minaccia ad aver unto le muraglie, pieno di attenzione per compiacere i suoi giudici, cominciò a dire che l'unguento gli era stato dato dal barbiere che abitava sull'angolo della vidra, che questo unguento era giallo, e gliene diede da tre once circa. Interrogato se col barbiere egli avesse amicizia, rispose, è amico, signor sì, buon di, buon anno, è amico, signor sì. Quasi che le confidenze di un misfatto così enorme si facessero a persone appena conoscenti, amico di buon di, buon anno. Come poi seguì così orribile concerto. Ecco nelle precise parole. Il barbiere di primo slancio disse al piazza, che passava avanti la bottega, vi ho poi da dare non so che, io gli dissi, che cosa era. Ed egli rispose, è un non so che unto, ed io dissi, verrò poi a torlo, e così da lì a tre di me lo diede poi. Questo è il principio del romanzo. Va avanti. Dice il piazza, che allora che gli fece tal proposizione vi erano tre o quattro persone, ma io adesso non ho memoria chi fossero, però me informerò da uno che era in mia compagnia, chiamato Matteo che fa il fruttaruolo e che vende gambari in carrobio, quale io manderò a dimandare, che lui mi saprà dire chi erano quelli che erano condetto barbiere. Chi mai crederà, che in tal guisa alla presenza di quattro testimongeli si formino così atroci congiure. Eppure allora si credette, i che la peste, che si sapeva venuta dalla Valtellina, fosse opera di veleni fabbricati in Milano. Secondo. Che si possano fabbricar veleni, che dopo essere stati all'aria aperta, al solo contatto diano la morte. Terzo. Che se tai veleni si dessero, possa un uomo impunemente maneggiarli. Quarto. Che si possa nel cuore umano formare il desiderio di uccidere gli uomini così a caso. V. Che un uomo, quando fosse colpevole di tal chimera, resterebbe spensierato dopo la vociferazione di due giorni, e si lascerebbe far prigione. V. Che il compositore di tal supposto veleno, invece di sporcarne da esse le muraglie, cercasse superfluamente dei complici. V. Che per trascegliere un complice di tale abominazione, gettasse l'occhio sopra un uomo appena conosciuto. V. Che questa confidenza si facesse alla presenza di quattro testimonierie, e il piazza ne assumesse l'incarico senza conoscerli, e con la vaga speranza di ottenere un regalo promessogli da un povero barbiere. Tutte queste otto proposizioni si pongano da una parte della bilancia. Dall'altra parte si ponga un timore vivissimo dello strazio ed espasimi sofferti, che costringe un innocente a mentire, indi la ragione pesi e decida qual delle due parti contiene più inverosimiglianza. Verri, Osservazioni, Pagina 215 79 Giacomo Mora era l'uomo di statura mezzana, grosso, faccia piuttosto tonda che altrimenti, con carne bianca e rossa, con poca barba castana chiara, ed era di 38 anni in circa. Processo, Pagina 374 Aveva in moglie Chiara Brivio, un figlio di nome Paolo Gerolamo, arrestato con lui, e quattro figlie, Anna, di 14 anni, Clara Valeria, di 12, Teresa, di 7, ed un'altra Teresa, di 6, onde è verosimile che fosse morta la precedente. Dai libri parrocchiali di S. Lorenzo, citati dal Verri. Ottanta gli si trovò fra gli altri, un vaso con elettuario, con bolletino che dice Contrapestem, fatto a 21 giugno, ed è circa quattro dita. Se per sorte mi sono venuti in casa perché io abbi fatto questo elettuario, ed che non s'abbi potuto fare, io non so che farli, l'ho fatto a fin di bene, ed per salute dei poveri, come si trovarà, perché ne ho dato via per l'amor di Dio. Processo, pagina 51. Questo unguento preservativo della peste era composto, secondo la deposizione del mora, di olio d'olivo, olio filosoforum, laurino e di sasso, di polvere di rosmarino, salvia e ginepro, ed aceto forte. E con questo songe li polsi, sotto la selle, la sola dei piedi, il collo della mano, nell'igenochi. ivi, pagina 75. 81. Il tribunale chiamò Margarita Arpizzarelli e Giacomina Andrioni, lavandaie, perché esaminassero il liscio. Le loro risposte furono tanto stolide quanto potevasi aspettare da donne del volgo ignoranti e superstiziose. Questo smoglio non è puro, ma vi è dentro delle forfanterie, perché il smoglio puro non ha tanto fondo, né di questo colore, e non è tacchente, viscido come questo. S.A.V.A.S. che con il smoglio guasto si fanno degli più eccellenti veleni che si possono immaginare. E l'altra? Quanto più si ruga in detto smoglio, si vede che viene più negro, et più infame, et con il smoglio marzo cattivo si fanno grandi porcherie, et tossici. Processo, pagina 59 trattino 60. Assurdità che non meritano la pena di una confutazione. 82. Girolamo Migliavacca, arrotino, fu giustiziato il 7 settembre. Pietro Girolamo Bertone, oste della Rosa, fu arrotato e scannato il 23 dicembre insieme con Gaspare figlio del Migliavacca ed altri. Gio. Stefano Baruello, oste di San Paolo, e cognato del Bertone, si costituì volontario in prigione il 1 grado luglio, l'11 ottobre gli venne intimata la sentenza di morte, promettendogli però l'impunità ove manifestasse gli untori e complici degli unti. Accettò, e in una deposizione, che è un assurdo romanzo, accusò come capo degli untori il Padia. Baruello morì di peste in prigione il 18 settembre. 83. Figlio del Castellano di Milano. Dopo lunga procedura uscì innocente nel 1632. 84. Il Baruello, nella sua pazza deposizione, eccitato a dire la verità, contorcendosi e battendo i denti, gridò, uh uh uh, se non lo posso dire, via sm aggiutti, addio mio! Addio mio! È la quel prete francese con la spada in mano, che mi minaccia, vedetelo là, vedetelo là sopra quella finestra. I giudici ritenendolo ossesso, fecero chiamare un sacerdote, il quale usò varge gli esorcismi, e benedì la finestra accennata dal Baruello, che intanto strillava, gridando scongiurate quello gola gibla. Alla fine è citato più volte a parlare, e gli proruppe in queste parole, Signore quel prete era un francese, il quale mi prese per una mano, e levando una bachetina nera lunga circa un palmo, che teneva sotto la veste, con essa fece un circolo, e poi mise mano ad uno libro largo in foglio, come di carta picciola da scrivere, ma era grosso tre dita, e la perse, e ti oviddi sopra li fogli degli circoli, e lettere attorno, attorno, e mi disse, che era la clavicola di Salomone, e disse, che dovessi dire, come dissi queste parole gola gibla, e poi disse altre parole ebraiche, aggiungendo, che non dovessi uscire fuori del chierchio, perché mi sarebbe succeduto male, e in quel ponto comparve nell'istesso circolo uno vestito di pantalone, e tolora il detto prete tenendo il quadretto dell'onto nelle mani di sé, attaccatevi a me, ne abbiate paura, e poi voltatosi verso di me, disse, riconoscete voi questo qua per vostro signore, facendomi cenno, che dicesi de sì, e ti olora. risposi, signor sì, che lo riconosco per mio signore, e lui, cioè detto prete andava dicendo, nec propter te, nec propter agli os, mirando o lampolino dell'onto, che aveva nelle mani, oltre molte altre parole dei quali non mi raccordo, e mentre ero in detto circolo io non vedevo alcuno fuori, che il detto prete, e detto pantalone, partì poi detto pantalone, sentito che è bichio lo riconoscevo per mio signore, e t' uscito fuori del circolo, vildi, il signor don giovanni il quale mi disse avete visto colui, denari non ve ne lascerà mancare, et io dimandandoli chi era detto signor don giovanni, rispose che era il diavolo, o l'ora detto prete li restitui detto ampolino, et il signor don giovanni lo diede a me dicendo, o vi ho conosciuto per galantomo mi voglio affidar di voi, pigliate questo vaso, che è di quelli onti, che oggi divanno per Milano, e perché non è perfetto, trovate ghezzi, e zatti, come ho già detto di sopra, poi mi soggionse, non vi dubitate, che se la cosa va a luce, io sarò padrone di Milano, e voi vi voglio fare degli primi di Milano. Processo, pagina 227. E seguitò la sua filastrocca, accusando molte persone, e particolarmente un Carlo vedano maestro di scherma. Baruello era un furfante matricolato, che fingendosi invaso dal diavolo, sperava a forza di invenzioni e bugie, scampare la vita, godendo l'impunità promessa, ma egli non fece che compromettere nuovi innocenti, e chissà quante altre vittime avrebbe sacrificate se in pochi giorni non fosse morto, come notai, di peste. 85. Il Mora e il Piazza subirono la morte il 2 agosto con tutte le barbare esacerbazioni portate dalla sentenza 27 luglio del seguente tenore. Riferito in Senato dal magnifico senatore Monti, presidente dell'uffizio di sanità, il processo istrutto contro G. Piazza e G. G. Mora, che con pestifero unguento unsero la città, e udito esso magnifico presidente, e raccolti i voti di tutti i senatori, venne nella determinazione che i predetti Mora e Piazza, intimata ad essi la morte, vengano tormentati con la corda ad arbitrio d'esso magnifico presidente, intorno agli altri punti e ai complici, e che avuti per ripetuti e confrontati, sopra un carro sieno condotti al solito luogo del supplizio, e per via sieno morsi con tenaglie infocate nei luoghi dove peccarono, ad entrambi si tagli la destra davanti alla barbieria del Mora, e spezzate le ossa secondo il costume, e la ruota si levi in alto e si intrecino vivi in quella, e dopo sei ore sieno strozzati, e subito i loro cadaveri sieno bruciati, e le ceneri gettate nel fiume, e la casa del Mora si distrugga, e al posto suo salzi una colonna che si chiami infame con un'iscrizione del fatto, e a nessun più in perpetuo si è concesso rifabbricarla, ai creditori particolari si soddisfaccia coi beni dei condannati se ne avranno, se no del pubblico, i beni del Mora e del Piazza si confischino, nel condurli al patibolo si tenga questa forma, precedano due trombetti che annunzino al popolo la causa della condanna e del supplizio, si avi bastante scorta, che non avvenga tumulto nel popolo, e perciò si chiudano le case dei sospetti, e si proclami che ciascuno stia in casa, e si guardi, il luogo dove avrassi a far la giustizia cingasi di steccati di legno, i quali affinché non possano essere infetti con quel lunguento pestifero, custo di scansi da uomini a ciò, e a quel luogo facciasi un coperchio, a ciò che i frati possano con minor incomodo assistere ai condannati, e di tutto diasi avviso al vicario di giustizia. Ottaviano Perlasca sottoscrisse e sigillò eccetera. Chiuderò questo capitolo con un documento importantissimo, perché prova ad evidenza l'intima persuasione, e in uno lo spavento che i magistrati avevano degli unti. Si noti che il fulminante decreto uscì cinque giorni dopo il supplizio del Mora. Filippo IV dei Gratia Ispagnarum eccetera. Rex, et Mediol. Dux eccetera. Avendo prodotto questo infelice secolo uomini per non dir mostri, usciti dalle più orride parti dell'inferno, quali già divenuti così scelerati et crudeli, che confini barbari ed infami eccedendo nella loro ferità tutti i termini dell'umana crudeltà, hanno avuto ardire di cospirare nella morte e decidio de popoli e città di questo stato, coelle fabbricare veneni pestiferi e dispergerli per le case, per le strade, per le piazze e sopra gli uomini stessi, uccidendo in questo modo infinito. Numero dei cittadini e famiglie senza distinzione di età, di sesso e di stato, né contenti di questo sono arrivati a segno tale d'empietà verso Dio, che fatti sacrileghi, gli hanno ancora disseminati sopra persone sacre, ed introdotto nei chiostri d'uomini religiosi, e vergini sacre ed innocenti, ed ancora nei sacri tempi, imbrattando con essi le sante immagini ed i sacrosanti altari, a ciò che nion luogo restasse in tutto della loro impietà sicuro a miseri, che per la salute propria e comune ai santi intercessori ed allo stesso Dio ricorressero. E quello che più accresce l'orrore è, che molti di questi tali scellerati, mossi da una infame ed esse granda avaritia, diuenuti parricidi siano arrivati a stato tale d'empietà, di tradir per danari la propria patria, e quei cittadini, coi quali s'erano nodriti ed alleguati, col fabbricare e disseminare in essa questi pestiferi veleni, rompendo con più non udita in umanità quei legami sacrosanti d'amore, coi quali dalla natura, da Dio stesso, e dalla continua consuetudine i cuori umani si sogliono insieme stringere ed allegare, per rimediare ad un delitto tanto grande, e sradicare dal mondo uomini tanto empgeri ed in umani, oltre il premio proposto a chi metterà in chiaro il detto delitto dal Tribunale della Sanità di Scudi 200 e l'impunità ad uno dei complici con grida del 19 maggio PP, fu d'ordine di esse e pubblicata altra grida sotto il 23 giugno susseguente, con premio di altri scuti 200 da pagarsi dalla R Camera, ed altri scuti 500 offerti dalla città di Milano, e della liberazione di due banditi di casi graui. Con l'impunità ad uno dei complici, a chi mettesse in chiaro il detto delitto, e comunicato poi il negozio col Senato, il quale stimò questo delitto in questa parte andar di paro con quello di lesa maestà, anzi esser con esso inseparabilmente congiunto, fu combinato con pubblico editto del di 11 luglio a quelli che sapessero quali fossero i rei di un tanto delitto, e non lo rivelassero, la pena della vita, e confiscazione dei beni che dalle leggi era prescritta a quelli che non scoprissero i rei di lesa maestà. Ed ultimamente con altra grida dell'i13 luglio fatta coelle parere del medesimo Senato, per dar maggior animo a quelli che avessero voluto mettere in chiaro questo fatto, si propose nuovo premio dell'impunità a tre complici e di mille scuti, e la liberazione di tre banditi di casi riseruati, purché o essero le opportune remissioni. Ed il Senato, essendo venuto sotto il suo giudizio due di questi traditori della patria, con la sentenza del 27 luglio, ha posto mano a quella maggior severità delle leggi, che fosse conforme, non ho l'enormità del delitto, poi c'è a quella è impossibile arrivare, ma ho l'abilità della natura umana e dalla cristiana pietà. Ma perché non con uiene tralasciare alcun rimedio per sradicare dal mondo se l'eratezza tanto empia, e fiere tanto crudeli, ha risoluto l'il ed ecch signor Ambrosio Spinola eccetera, coelle parere anche del Senato, di far pubblicare la presente grida, con la quale inerendo alle sudette, le quali vuole che restino nel suo vigore e forza, e da tutte le proibitioni e pene fatte ed imposte dalle sacrosante leggi, così comuni come particolari di questo Stato, per la salute comune e beneficio pubblico, proibisce a ciascuna persona di qualunque condizione e Stato sia, senza eccettuarne alcuna, il fabbricarne o far fabbricare questi pestiferi veneni, o losarli sotto pena della vita, in modo che condotti al luogo del patibolo, le siano dal carnefice con una ruota ben ferrata spezzate ad uno ad uno tutte le ossa principali del corpo dal cranio della testa in poi, perché possino i loro corpi essere intessuti vivi fra i raggi di detta ruota, e poi ci. grazie. Grazie a tutti. 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 , , a tutti. 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 , a tutti. , a tutti. , a tutti. , 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 ,, , ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, 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 ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, 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 , 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 . Grazie a tutti. 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 a tutti.